Dino Di Michelangelo e Marina Serraiocco, due tra le 29 vittime della tragedia di Rigopiano, anche loro ricordate con questo monumento realizzato dall'artista Maria Elena Carulli e che campeggia da tre anni ormai su questa terrazza in via d'Aragona a Chieti, sullo sfondo sua maestà la Maiella come un triste orizzonte che ricorda costantemente quel maledetto luogo, Rigopiano appunto, dove quel pomeriggio di cinque anni fa una terribile valanga ha spazzato via in un lampo. L'hotel Ilvate. Stamane la commemorazione con tutte le autorità, dal prefetto Forgione al questore Gargano a Filippo Di Giovanni in sostituzione del presidente della provincia Menna, il sindaco Diego Ferrara, ma soprattutto i parenti e gli amici di Dino, dalla madre al fratello Alessandro. Questo luogo, un luogo definito un luogo d'amore, quando fu scoperta per la prima volta questo monumento, questo bellissimo monumento, è il segnale che la gente dà a questa vicenda. Si fermano persone, si fermano turisti l'estate che chiedono dove si trova il monumento e ci tengo a raccontare un aneddoto che forse mi ha colpito più di tutto, più di tutti quelli che viviamo quotidianamente. Domenica mattina eravamo venuti qua con gli amici di Dino che sono qui presenti a ripulire, a renderlo ancora più bello per oggi e si è avvicinata una mamma con una bambina. La bambina tentava di salire e di toccare le dita. Allora la mamma si è avvicinata alla bimba, l'ha presa in braccio e con un italiano stentato, quindi ho capito che erano stranieri, la mamma ha detto alla bimba manda un bacio, manda un bacio al cielo e la bambina ha mandato un bacio al cielo e questo è un segnale che i 29 angeli ci danno. Parallelamente prosegue la ricerca della verità in sede giudiziaria. Questa mattina tra l'altro in forma privata anche l'omaggio dei genitori del procuratore capo di Pescara Giuseppe Bellelli che ha promesso il massimo impegno e anche di più perché si giunga la verità, così come si auspica anche il sindaco Diego Ferrara nella doppia veste di primo cittadino e medico di base della famiglia di Michelangelo. Ovviamente c'è stato un elemento naturale, però c'è stata anche una fase successiva su cui la procura e i giudici stanno indagando e la richiesta pressante dei familiari è quella di avere giustizia che possa lenire anche se in minima parte il loro dolore.